Per noi è una scelta di civiltà l'integrazione europea. Noi siamo qui, questo è il nostro posto e non andiamo da nessun'altra parte. Vogliamo che l'Europa ridiventi forte, ambiziosa, coraggiosa. Per questo non guardiamo solo ai vantaggi a breve termine, ma anche a cosa possiamo dare all'Europa. La Polonia guadagna dalla integrazione, soprattutto in termini di scambi commerciali sul mercato interno. Poi c'è il trasferimento tecnologico, trasferimenti diretti, sovvenzioni dunque. Anche queste sono importanti, ma noi non siamo venuti nell'Unione a mani vuote. Il processo di integrazione economica ha aumentato le possibilità delle aziende del mio Paese, ma ha aperto anche enormi possibilità alle società tedesche, francesi, olandesi. Non possiamo tacere nel momento in cui il nostro Paese è attaccato anche in questa sala in maniera parziale e ingiustificata. Le regole del gioco debbono essere le stesse per tutti e vanno rispettate da tutti anche dalle istituzioni che sono state create dai trattati. Questo è lo stato di diritto. Non è ammissibile che si amplino le competenze col metodo del fatto compiuto. Respingo la lingua delle minacce e delle imposizioni.